Benvenuti a Race Week, il nuovo podcast di Formula Passion che vi accompagnerà verso ogni weekend di Formula 1 con analisi, opinioni, aneddoti e tante curiosità. Amici di Formula Passion, benvenuti a una nuova puntata di Race Week da Simone Peluso. Come sempre insieme a me c'è anche Gianluca Carvaresi. Ciao Gianluca, ma soprattutto bentornato da Barcellona. Ciao Simone, ciao a tutti. Sì, tornato da una Barcellona caldissima, veramente le temperature erano agostane direi, cosa che ha messo a dura prova piroti, team, gomme e anche affidabilità delle vetture. Ah, infatti, ci hai portato un sacco di spunti molto interessanti da analizzare, ma innanzitutto c'è stata una gara ricca di colpi di scena, come abbiamo visto, su tutto il ritiro di Leclerc, ma ovviamente è già tempo di proiettarci verso il Gran Premio di Monaco, perché questa sarà la seconda back-to-back della stagione dopo quella iniziale. Certamente Monaco non ha bisogno di presentazioni, lo sappiamo benissimo, rappresenta da sempre la Formula 1 con la sua iconicità, con la sua storia, per l'incontro dei motori con il glamour, la bellezza e anche il lusso. Anche se divide, continuerà sempre a dividere gli appassionati, cerca la sua spettacolarità da un punto di vista sportivo. In altre parole, Monaco o si ama o si odia. Sì, Monte Carlo è una delle tre gare storiche della Formula 1, che proprio sono direi le radici del campionato mondiale, insieme al Gran Premio d'Inghilterra e Gran Premio d'Italia a Monza. Quindi Silverstone, Monza e Monaco sono direi le piste che ci sono sempre state. Eppure devo dirti che negli ultimi mesi, lo abbiamo letto anche sul nostro sito di Formula Passion, sono iniziati a girare diverse indiscrezioni nel paddock che parlano un po' di un futuro a rischio per Monaco. L'amministratore delegato della McLaren, Zac Brown, per esempio, ha chiaramente dato un avviso a Monte Carlo dicendo che ha bisogno di adattarsi alle nuove esigenze, soprattutto della Formula 1, perché ci sono diverse mete appetibili per il nuovo meccato, tra virgolette, glamour. Tra queste mete, l'abbiamo visto, c'è proprio Miami, che poco tempo fa ha ospitato la sua prima gara, su forte spinta di Liberty Media, ma poi l'anno prossimo arriverà anche Las Vegas. Ti chiedo quindi Gianluca se è effettivamente plausibile ipotizzare uno scenario di questo tipo, ovvero con Miami o, come abbiamo detto, Las Vegas, Singapore, altre tappe di questo tipo che possono effettivamente prendere il posto di Monaco nel prossimo futuro. Sì, questa ipotesi, perché ormai più che una voce è un'ipotesi, è cominciata a crescere 3-4 settimane fa da fonti giornalistiche inglesi, poi ovviamente commentate e riprese, come hai detto tu, da Zac Brown, ma non solo, anche da piloti come Hamilton e Ricciardo, che si sono detti preoccupati del fatto di perdere la gara monegasca. Tutto nasce dal fatto che il Gran Premio di Monaco ha un contratto in scadenza, scadrà il suo contratto per tenere il Gran Premio di Formula 1 alla fine di questa stagione, quindi è necessario arrivare a trattative per definire un nuovo accordo e come sappiamo anche noi, italiani, per tutte le sofferenze che ha avuto a Monza, questo non è mai una cosa semplice, perché Monaco comunque è una di quelle piste che paga meno per avere il Gran Premio di Formula 1, quindi in questo momento in cui tutti cercano soldi e anche i team di Formula 1 è chiaro che questo è un motivo di difficoltà. Bisogna vedere, sì, se può essere sostituita da Miami o da altre gare, come in C2 che vedranno avanti come Las Vegas, Monaco è un cittadino, potremmo dire vecchio, perché i nuovi cittadini che sta portando il Liberty Media sono cittadini ad alta velocità, come Jedda, come Miami, come insomma anche Baku che era uno degli ultimissimi arrivati, perché appunto consente di dare visibilità alle pubblicità cartellonistiche sui rettiline, ma anche uno spettacolo più che accettabile, è proprio lo spettacolo di Monaco della domenica adesso ad essere messo sotto osservazione. Volevo solo aggiungere una piccola nota integrativa per dire che il primo tentativo di Miami di diventare, tra virgolette, una nuova Monaco in realtà non è andato poi così bene come in realtà è stato fatto trasparire. Mi riferisco nello specifico ad alcune testimonianze raccolte da Adam Cooper, che è uno dei giornalisti freelance più autorevoli e accreditati del Circus, secondo le quali lo spettacolo offerto da Miami è stato terribile e che gli sponsor molto ricchi, sia quelli arrivati che i potenziali, faranno molta fatica a tornare il prossimo anno, perché si sono fortemente lamentati del servizio offerto dal Paddock Club, che è stato gestito localmente e non dalla struttura della Formula 1. Ovviamente chi paga un biglietto di 13 mila dollari per assistere a un weekend nel Paddock si aspetta giustamente un servizio da 5 stelle. Si tratta ovviamente di problemi, lui li ha definiti da primo mondo, cioè molto marginali rispetto allo spettacolo o comunque alla gente comune, ma il dato importante è che è comunque difficile arrivare a un livello che Monaco in realtà si è costruito negli anni. Ci spostiamo adesso invece sull'aspetto prettamente legato alla pista, perché Monaco, lo sappiamo, fa sempre storia a sé, nonostante tanti cittadini si stanno sempre più affacciando nel calendario di Formula 1. I team, sappiamo, portano ogni anno dei pacchetti aerodinamici dedicati per Monte Carlo, che vengono usati solamente su questa pista. Per questo motivo ti voglio chiedere, Gianluca, se con questa filosofia di vettura attuale introdotta nel 2022, gli sforzi dei team saranno ancora maggiori rispetto al passato e soprattutto quali sono le criticità principali di queste monoposto attuali? Allora sì, tipicamente le squadre portano sempre degli adattamenti per la pista monegasca, ad iniziare dalle sospensioni, dall'angolo di sterzo, che deve essere maggiore rispetto a un tracciato normale, proprio per potersi muovere all'interno di tornanti così stretti, portano ali... Come il Leves, per esempio, no? Esattamente, come il Leves, il portier, portano ali maggiorate per avere il massimo carico aerodinamico possibile e molle con più soffici. Quindi le sospensioni con tarature più soffici per aumentare il grip meccanico e quindi schizzare via dalle curve il più velocemente possibile. Quest'anno però ci sono due complicazioni in più. La prima è data dalla filosofia di queste vetture, diciamo così, perché come sappiamo le monoposto del 2022, con il ritorno dell'effetto suolo generato dal fondo vettura, ottengono buona parte della loro deportanza a media-alta velocità. Chiaramente Monaco non è una pista ad alta velocità, le alte velocità si raggiungono solo alla fine del tunnel e quindi il carico aerodinamico che le monoposto avranno sarà piuttosto scarso. Questo, faccio un passo indietro, lo si è visto anche a Barcellona, nel terzo settore, il T3, che è il settore in cui c'è un maggior numero di curve lente tortuose, che di solito viene preso un po' come spunto per fare una similitudine con Monaco e lì si vedeva a occhio nudo, stando a bordo pista, che le vetture erano impacciate, saltellavano. Abbiamo visto anche il test a coda di Leclerc in qualifica proprio in quel punto, dovuto principalmente alle gomme calde, ma anche proprio al fatto che il carico è quello che è. Questo è il primo punto. Il secondo punto, di cui tutti i piloti hanno un po' parlato nella vigilia del Gran Piemone di Spagna, è la visibilità, perché queste auto con le gomme, con cerchi da 18 pollici, che quindi hanno un diametro maggiore rispetto alle gomme dello scorso anno, e le protezioni, le schermature aerodinamiche che troviamo davanti alle ruote anteriori, creano non pochi problemi di visibilità. Quindi trovare il punto di corda su curve così strette, detto dai piloti già a Barcellona, non sarà una cosa semplice. Allora, io volevo riprendere quanto hai detto, perché voi siete stati, tu e Carlo Platella durante il weekend di Barcellona, siete stati a bordo pista e avete avuto modo di vedere soprattutto nell'ultimo settore il comportamento di queste vetture. Volevo chiederti quali sono state le tue sensazioni in merito alle prestazioni fra le tre macchine che adesso stanno dominando davanti, ovvero Ferrari, Red Bull e adesso anche Mercedes che proprio a Barcellona ha dimostrato di riuscire a colmare un po' quel gap che aveva nelle prime gare della stagione. Quali sono state quindi le tue sensazioni vedendo le macchine dal vivo? Eh sì, come dicevi tu con Carlo, abbiamo passato un bel po' di tempo nel terzo settore a confrontarci sul comportamento delle vetture. Direi che parlando delle prime tre, Red Bull, Ferrari e Mercedes, si nota come Red Bull e Ferrari abbiano una buona trazione in questo settore, soprattutto in uscita dalla curva 10 che è la curva di trazione per eccellenza a Barcellona e nel successivo tratto misto. Le macchine rimanevano molto attaccate al cordolo, riuscivano a schizzare bene dai tornanti e si vedeva che non appena il pilota tornava ad accelerare la macchina andava via diciamo in modo lineare. Diverso era il comportamento di Mercedes che era molto più nervosa e molto più instabile in questa parte. Aveva un comportamento migliore nei primi due settori o quantomeno buono, non migliore, buono nei primi due settori ad alta velocità ma a bassa velocità. Dal mio punto di vista e anche da quello di Carlo in base a quello che ha scritto, la Mercedes è ancora un passo indietro. È vero che a Monaco l'asfalto è diverso, i carichi aerodinomi ci sono diversi, quindi non è che la situazione sia esattamente identica con il terzo settore, però sicuramente è un buon indicatore il comportamento in quest'area del circuito di Barcellona. Pur essendo una pista molto lenta, Monaco è un tracciato particolarmente impattante dal punto di vista dei freni. I fornitori di questi componenti infatti come Brembo lavorano anche loro in maniera dedicata per questa gara, trovando delle soluzioni ad hoc che possano migliorarne il raffreddamento. Abbiamo raggiunto Stefano Pavan, che è ingegnere di pista di Brembo Racing, che ci ha dato qualche indicazione in più sulla difficoltà nell'affrontare una sfida ardua come Monte Carlo. A Monte Carlo la criticità per i freni non sono tanto le coppie raggiunte, ma le temperature. Infatti, essendo un circuito cittadino, risulta difficile raffreddare l'impianto, poiché i flussi d'aria sono ridotti, per via della velocità media comunque relativamente bassa. Anche le pinze di fluido freni subiscono importanti carichi termici. In passato si era soggetti al fenomeno del vapor lock, con il risultato che si vedeva in un allungamento del pedale del freno, creando notevoli problemi al pilota. Oggi, con i progressi che ci sono stati, sia lato fluido freni che capacità di ottimizzare il cooling di dischi e pastiglie, da parte del team questo fenomeno non si vede più. Però sicuramente occorre monitorare con attenzione ciò che accade alle temperature dei freni. Quello che viene fatto, solitamente lato impianto a Monaco, è quello di utilizzare dischi con specifica di ventilazione più spinta a disposizione, andando inoltre a modificare il cooling vettura, aprendo il più possibile le prese d'aria, garantendo quindi il massimo apporto di aria fresca all'impianto. Dedichiamo ora questo capitolo della nostra puntata a Lewis Hamilton, perché non possiamo non menzionare il suo Gran Premio di Spagna. Hamilton infatti ha sfoggiato una prestazione degna dei tempi d'oro della Mercedes, risalendo dall'ultimo al quinto posto finale. Tra parentesi, possiamo tranquillamente considerarlo un quarto, perché senza il problema la Power Unit nel finale non avrebbe perso la posizione già conquistata su Carlos Sainz. Il tutto condizionato ovviamente dalla foratura iniziale, dopo un contatto con Kevin Magnussen, che lo ha spedito in fondo al gruppo, tirando fuori un certo senso di arrendevolezza, ignoto per lui, per il campione, per il campionissimo che non l'ha mai mollato, che si è convertito in una chiamata via radio al team alla richiesta di ritirare la macchina per salvare il motore. Dopo essere stato convinto dai suoi uomini ad andare avanti, a mettere nel mirino una zona punti possibile, Hamilton ha messo insieme un passo gara strepitoso e, sorpasso dopo sorpasso, è riuscito a risalire andando ben oltre la posizione fissata dal suo team. Quello che ci chiediamo noi è molto semplice, ovvero se la gara di Hamilton può essere da un lato vista come una risposta alle critiche di questo inizio di stagione, di chi lo ha criticato, di chi lo vede ormai come un pilota sulla via del tramonto, oppure se effettivamente un'analisi fatta gara per gara non ha praticamente senso di esistere, soprattutto dopo pochi gran premi di una era completamente nuova per la Formula 1. Di questo ne abbiamo parlato con Pino Allievi. Se qualcuno pensava che lui, se Hamilton, fosse un pilota finito, senza più motivazioni né desideri, vada ad analizzarsi con cura quello che ha fatto domenica in Spagna, dove è stato urtato subito da Magnussen. È stato costretto a una sosta in box al primo giro, dopo sette passaggi era ultimo a 59 secondi e alla fine ha concluso la gara al quinto posto a 54 secondi e 5 da Verstappen. Ovvero, Hamilton ha viaggiato per tutta la distanza più velocemente del vincitore della gara e quando ancora c'era Leclerc, Lewis in più di un giro era stato più rapido anche della Ferrari. Ha disputato una corsa invisibile, è chiaro, ma la sua resta una prestazione eccezionale in una stagione per lui avara di soddisfazioni con una macchina che solo a Montmelò ha dato qualche cenno di risveglio e con un compagno di squadra molto forte, molto intelligente come Giorgio Russell, la prestazione del Gran Premio di Spagna è tuttavia la risposta a chi vorrebbe Hamilton pronto a lasciare la scena, quando invece è ovvio che Russell abbia motivazioni e freschezza superiori a quelle di Lewis, ma non appena la Mercedes c'è stata, Hamilton è tornato prepotentemente a farsi sentire. Adesso c'è Monte Carlo, gara che non credo sia mai particolarmente piaciuta sette volte campione del mondo e sono curioso di vedere come andrà la Mercedes, che sinora il grande progresso lo ha mostrato soprattutto nelle curve veloci, mentre adesso è attesa in un toboga dove servono altre qualità per eccellere. Poi torneranno i circuiti che davvero piacciono a Hamilton e se la Mercedes progredirà ulteriormente ci divertiremo davvero, fermo restando che le cifre di un campione così grande sono quelle di una carriera, non di un confronto gara per gara con i rivali o il risultato di un campionato. Hamilton quello che doveva fare lo ha fatto, metterlo in discussione oggi tentando di smitizzarlo è solo un esercizio inutile e anche stupidamente ingrato. Bene, quindi dopo aver ascoltato il parere di Pino Allievi su Hamilton ci ritagliamo un piccolo spazio per approfondire una questione che è venuta fuori per la prima volta a Miami con Aston Martin e che è esplosa definitivamente, anche se forse esplosa non è il termine più adatto, a Barcellona, ovvero il caso benzine. Caso benzine legato alle temperature di esercizio del fluido all'interno del motore e che ha portato Verstappen, Gasly e Tsunoda a schierarsi in griglia all'ultimo secondo prima della chiusura della pitlane. Ci spiega tutto dalla nostra redazione Marco Belloro. Prima le Aston Martin al via dalla pitlane a Miami, poi Verstappen e Gasly in griglia di partenza a Barcellona all'ultimo secondo prima che scattasse il semaforo rosso e in atto un braccio di ferro tra i team sulla temperatura della benzina imbarcata nel serbatoio prima del via delle gare. A Barcellona è stata introdotta la regola secondo la quale il carburante non può avere una temperatura inferiore di 10 gradi rispetto a quella dell'ambiente, mentre a Miami si poteva scendere fino a meno 18 gradi. In Spagna la benzina imbarcata da Verstappen era troppo fredda e per questo in Red Bull per scaldarla hanno acceso il motore contrastando il calore generato mettendo chili di ghiaccio secco nell'airbox per non surriscaldare eccessivamente il propulsore. Secondo la Red Bull la temperatura deve essere presa quando la vettura esce dai box, la Ferrari invece ha puntualizzato che se il regolamento dice quando l'auto è in uso, ciò significa che la benzina deve essere in regola anche quando si accende il motore con la monoposto ancora nel garage. La benzina fredda serva la Red Bull per minimizzare il rischio di evaporazione del carburante dentro i serbatoi, la probabile origine dei guai avuti dall'RB18 in Bahrain. Siamo arrivati quindi in chiusura, lo facciamo con il nostro ormai solito spazio ricordi. Gianluca, a cosa pensi se ti dico Gran Premio di Monaco? Eh Simone, tra i tanti ricordi mi viene in mente quella che definirei pole position fantasma di Michael Schumacher nel 2012. All'epoca Schumacher correva con la Mercedes, era nella parte finale della sua carriera, fece la pole, pole che però gli fu cancellata perché il pilota tedesco doveva scontare una penalità rimediata nel precedente Gran Premio di Spagna per aver tamponato Bruno Senti. Quindi purtroppo questo tolse una stella nell'ampi firmamento di Michael Schumacher che comunque avrebbe dato merito all'impegno del pilota tedesco anche nella sua parentesi con la Mercedes. E invece a te Simone cosa ti viene in mente se ti dico Monaco? Io invece vado indietro di altri 30 anni e mi fermo nel 1982 con la prima storica vittoria di Riccardo Patrese in Formula 1 con la Brabham, il veterano della nostra pattuglia come lo chiamò all'epoca poltronieri in telecronaca. Patrese trionfò al termine di una gara pazzesca e di un ultimo giro rocambolesco che vide ben quattro piloti alternarsi in testa alla corsa. Patrese prese la leadership della gara dopo i ritiri di Proste Arnum, ha perso il controllo della sua macchina all'Evs scivolando su una macchia d'olio. A quel punto toccò a Pironi andare in testa ma la sua Ferrari si fermò all'entrata del tunnel per un problema alle batterie. De Cesaris con l'Alfa Romeo provò ad andare a vincere ma anche la sua macchina si fermò perché aveva finito la benzina e infine Daily con la Williams andò a sbattere alla Rascasse. Patrese in tutto questo aveva ripreso la strada e arrivò al traguardo tra lo stupore generale, non sapeva se aveva vinto finché i Marshall non gli indicarono di andare sotto il palco dei principi per ricevere il trofeo. Ricordiamo anche che qua la gara fu una gara molto triste e emblematica per la Ferrari, la prima dopo Zolder, dopo la morte di Gilles Villeneuve. Con questo ci salutiamo amici di Formula Passion, ricordiamo ovviamente di collegarvi sul nostro sito per tutte le news, gli aggiornamenti, gli approfondimenti sul prossimo Gran Premio di Monaco e non solo. Non dimenticate quindi di darci anche un feedback sul nostro forum o nei commenti di YouTube oppure attraverso una recensione su Spotify nel canale fpradio.it. Noi invece ci risentiamo con Race Week prima del Gran Premio dell'Azerbaijan, ovviamente ascoltando la passione. Ciao Gianluca e ciao a tutti. Ciao Simone e ciao a tutti, alla prossima.